Può uscire. Nell'organismo che non è il direttore non c'è nessun senatore. Posso, dal mio punto di vista, io sono contento di questa scelta perché il movimento deve caratterizzarsi come un movimento giovanile, si può essere giovani anche a 80 anni, è ovvio, perché noi dobbiamo restituire una speranza a questo paese e non una speranza fatta di annunci che poi non trovano concretizzazione. Ormai è quasi un anno che il governo è in carica, da febbraio sono otto mesi pieni, però il paese sta sempre più retrocedendo, per cui ben venga un'assunzione di responsabilità da parte di ragazzi che dovranno decidere con le loro azioni se riuscire a rimanere in questo paese oppure far le valigie e andarsene, perché l'Italia è tornata ad essere un paese di migranti.